Mimmo, un grande rammarico, insomma, prima del riposo lungo, gara molto equilibrata e poi un terzo quarto che ha condizionato tutta la partita. Sicuramente siamo entrati un po' così scarichi, loro hanno stretto in difesa, ci hanno messo un po' più le mani addosso, erano più fresche, hanno una panchina più lunga della nostra in questo momento, quindi è normale che noi stiamo pagando anche un po' di stanchezza. Peccato perché sicuramente ce la saremmo potuto giocare fino alla fine, merito a Bologna che ha fatto un grandissimo terzo quarto, poi siamo stati bravi noi a non mollare perché comunque dal meno 19, meno 20 siamo riusciti a ritornare in partita. Quindi prendiamo di buono la reazione, è un momento di stanchezza, fortunatamente domenica c'è questa partita che ci permette subito di voltare pagina e poi ci riposeremo un po' cercando di recuperare al meglio tutte. Ecco, come sta Rescianda Mimmo? Ma Rescianda è in fase di guarigione, è normale che abbiamo preferito rischiarla sabato perché è una partita importante, non che oggi non lo fosse, però in questo momento dobbiamo stare attenti ai carichi di lavoro, quindi sicuramente abbiamo preferito non rischiarla oggi, però dai, diciamo che speriamo di averla al più presto. Il Covid si fa sentire perché condizioni fisiche precarie, poi tante gare ravvicinate, non aiuta? No, no, ma sapevamo che era un momento difficile ma non possiamo piangerci addosso, dobbiamo reagire, dobbiamo superare questo momento e ripeto, domenica è uno scontro diretto contro una squadra che ha dato filo da torcere a tutte, che vuole lottare fino alla fine per andare dei pre-off, quindi sarà una battaglia, dovremo provare a farci trovare pronte, provare a portare a casa una vittoria che per noi sarebbe fondamentale. Grazie.